Il termine risorsa è molto presente nelle nostre conversazioni quotidiane. Per scoprire di cosa si tratta, possiamo fare una facile ricerca. Sul dizionario esistono due definizioni di risorsa, la risorsa come disponibilità di energia in natura, ma anche la risorsa come disponibilità a creare ricchezza in economia. Due definizioni apparentemente molto diverse, che si uniscono nel concetto di Green Economy. Il progetto di Alma Bamboo prevede di creare ricchezza economica per i propri soci, facendo crescere allo stesso tempo una risorsa fondamentale, l'ossigeno. Partecipare a progetti e investimenti di questo tipo è necessario per reagire agli attuali problemi causati dall'inquinamento e dai cambiamenti climatici. I nuovi modelli imprenditoriali non possono più trascurare gli aspetti ambientali, è una questione di responsabilità. Un progetto ambizioso e molto complesso che abbiamo reso semplice, proficuo e alla portata di tutti. Alma Bamboo è fra le maggiori aziende della Green Economy ed opera nel settore della coltivazione di polmoni verdi. Cerchiamo i terreni più adatti, vi coltiviamo il bambù gigante con cura e senza pesticidi e generiamo ricchezza economica per i nostri soci dalla vendita di legname e germogli. Come mai proprio il bambù gigante? Perché si tratta di una coltivazione a basso impatto ambientale, biodegradabile al 100% e capace di una produzione di legname fino a 20 volte superiore di quella di alberi a parità di superficie. Il bambù gigante contribuisce a risanare i terreni trasformando gli inquinanti presenti in biomassa. Può catturare fino a 17 tonnellate di carbonio per ettaro, mantenendo pulite le falde acquifere. Infine è un investimento molto redditizio. Il bambù gigante cresce in modo veloce e può raggiungere i 20 metri in soli 60 giorni e quindi il nostro ritorno è altrettanto veloce. Un ettaro produce in media, a salire, 2.500 culmi all'anno, ovvero i fusti del bambù, che partono da un ritiro di 12 euro cada uno. Un ettaro produce anche 7.500 kg di germoglio fresco, ottimo in cucina, ritirato dal mercato con un prezzo che parte da 2 euro al chilo. Il bambù gigante è utilizzato in molti settori, dalla bioedilizia all'industria tessile, dalla cosmetica all'industria alimentare. Alma Bamboo, crea business eco-compatibile ad alta redditività. Per tutti, visita ora almabamboo.com e seguici su Facebook e YouTube.